Con il tecnico del Real Forio, Flavio Leo, al termine di questa partita, guardare il tabellino un trionfo. Conoscendoti però so già che ci sono alcune cose sulle quali lavorerai in settimana. Partiamo però dalla partita. Il risultato si può dire che non è stato mai in discussione? Non è stato mai in discussione. Questa era una prestazione che dovevamo fare assolutamente dopo la brutta prestazione che abbiamo fatto almeno il secondo tempo dell'Alba Nova. Però i ragazzi erano assolutamente determinati a voler portare a casa il risultato a tutti i costi. Hanno lottato, hanno giocato con grande determinazione per far sì che questo accadesse. Come dicevi tu prima, sicuramente ci sono delle cose da migliorare perché abbiamo la bravura, la fortuna, come la vogliamo chiamare, di andare in vantaggio quasi subito. Da quel momento in poi c'è stato anche, mi aspettavo, un altro tipo di atteggiamento. Una squadra che comunque con personalità può mantenere il palleggio e può poi colpire con gli attaccanti che oggi avevamo in gran forma. Gianluca oggi chiaramente è venuto fuori alla grande, così come anche Cantelli e ha fatto un'ottima prestazione anche Valentino. Ma devo dire che la squadra è stata attenta sotto tutti i punti di vista. Un altro appunto era quello di non prendere più gol. La difesa è stata molto attenta, però chiaramente vanno migliorati determinati aspetti. Però ci godiamo questa vittoria. Il Forio forse deve trovare qualche soluzione più agevole proprio nella fase di palleggio, nella fase di gestione della partita, quando magari c'è bisogno un po' di addormentarlo il gioco. È quella la parte forse più complicata? No, ma non si tratta di essere complicati. Si tratta soltanto di avere il coraggio di poter fare determinate cose che le facciamo anche molto bene durante la settimana. Poi la partita chiaramente ti dà altre informazioni, altre situazioni che vanno lette durante la gara. L'unica cosa che chiedo in quel frangente di cui parli tu è soltanto avere più coraggio e personalità per poter mantenere il palleggio e cercare poi delle imbucate con i giocatori che abbiamo, perché abbiamo dei giocatori con delle caratteristiche importanti che comunque ti possono cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento. Una, tra virgolette, coccola Gianluca Servino gliel'hai già fatta. A mio avviso però, tra coloro che sono subentrati, un'attenzione se la merita ancora una volta questo Andrea Di Meglio, classe 2005, un giovane, giovanissimo che hai a disposizione. La personalità, l'impegno, la disponibilità sembrano essere insomma quelle giuste. Ma guarda, Andrea sta crescendo tantissimo. Andrea l'abbiamo già inserito in rosa già l'anno scorso e va tutelato con un minutaggio attento anche in situazioni di gara particolari. Però Andrea ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre bene. Ma mi va anche di sottolineare la prova di Granato che comunque ha fatto un'ottima esordio da titolare con grande personalità, un 2002 che comunque in campo veramente si fa sentire. Però dico che è stata una prestazione corale, anche l'ingresso di Nicolas, di Geliganin, lo stesso Giuliano. Stiamo ricompattando un bel gruppo e tutti, indipendentemente da chi gioca, si mettono a servizio della squadra in maniera molto determinante.